Buongiorno, sono Nadia di Sette Gioielli. Oggi vi voglio parlare e mostrare dei oggetti, degli anelli, in particolare vintage, perché c'è questa richiesta e non pensiamo che siano solo gli over 60, ma bensì ragazze molto più giovani. Prego, vi voglio mostrare questi. Qui abbiamo una serie di anelli vintage, come vedete in oro giallo, perché così erano, si usavano così, poi c'è una selezione della scuola padovana, e poi vi voglio anche mostrare il perché, e questi che sono oggetti particolari fatti nel nostro laboratorio. Partiamo dagli oggetti questi, la linea vintage, partiamo dal fiocco, il classico fiocco che si usava tantissimo. Questo è stato fatto con un carré di rubino, con delle arete, tra l'altro anche sfumate in tre colori. Come vedete gli anelli si usavano pesanti e in oro giallo, così era la moda, la moda vintage. Questo invece è il classico panther, si usava tantissimo, era un anello morbido, che aderiva proprio al dito, si faceva con le pietre o anche addirittura senza pietre, questo si chiamava il panther, molto ambito in quel periodo. Questo è stato fatto con un cavoscio di rubino. Poi c'era il classico anello che si usava per le signore, anche il mignolo, il mignolo importante, che con questo è stato fatto con un pavè di brillanti, ma proprio si usava pesante di oro e anche tutto in giallo. Un altro classico è un altro tipo di fiocco, questo è con il zaffero silo, quello della provenienza del silo, con dei brillanti laterali, però tutto in oro giallo, quando chi invece adesso, vediamo bene che usiamo gli anelli più sottili e in oro bianco, anche questo molto bello, pesante se vogliamo, per il peso dell'oro, però proprio andavano questi tipo di anelli di questa forma, in oro giallo e anche pesanti. Poi invece un'altra linea è questa, quella della scuola padovana, questi si sono vintage e volevo mostrare anche la differenza. Questo anello, partiamo da questo, è stato fatto in oro giallo, ma la parte sopra è in argento, cioè proprio è foderato in argento, ma si usavano proprio così, non per risparmiare a farli in argento, anzi c'era il doppio lavoro perché bisognava farli con la fodera, ma bensì per invecchiarlo, vedete che questo è stato invecchiato, mentre che questo non è invecchiato, questo è in tutto oro, bianco e giallo, ma non invecchiato, perché si può invecchiare con dei sistemi solo se è in argento, come anche questo con l'opale, la stessa identica forma con la fodera in argento e anche questo, gli anelli un po' più pesanti come abbiamo visto prima, con questa forma tipo fascia, fatta con argento e oro, tutto inciso tra l'altro, tutto traforato e inciso, con un zaffiro centrale e dei brillantini. Queste sono linee, proprio le linee che si usavano qualche anno fa, le linee vintage e c'è proprio richiesta delle ragazze giovani perché vogliono questo ritorno di oggetti più particolari. Un'altra linea invece che abbiamo fatto nel nostro laboratorio, ma che è molto particolare perché si usavano, si facevano per certe persone che avevano magari uno stemino del casato, che volevano l'anello particolare per la serata, questi anelli che sono abbastanza importanti, che in particolare, se noi alziamo, abbiamo anche il segreter, si diceva una volta, qui si metteva lo stemino del casato, si chiudeva o si mettevano delle incisioni particolari, si chiudeva e avevano questo anello con il segreter, questo era uno, questo è tutto tempestato di brillanti, diamanti a taglio brillante, mi raccomando. Un altro particolare è questo che è il reverse, cioè cosa vuol dire? Che abbiamo l'anello così, come lo vedete, con i brillanti, i fence, quelli gialli laterali, anche in questo caso centrale, con un contorno più bianco, però si può anche eventualmente cambiare forma, cambiare linea dell'anello girandolo e cosa fare? Si gira l'anello e diventa un pavè, non ha più il centrale del solitario, ma bensì il pavè, tutto con brillantino, bianchi e gialli. Questo addirittura è stato anche invecchiato proprio per brunirlo, per dare l'effetto più antico. Queste sono tutte linee che si chiamano appunto le linee vintage, perché sono ben diverse di quelle che si usano ora, che sono in oro bianco, piccoline, poco oro e tanta pietra, ma bensì questo è completamente diverso. Se anche a te piace la linea vintage, che sei un amante di questo tipo di gioiello, non esitare a contattarci, siamo in piazzale Castagnara 36, Cadoneghe, Padova e saremo ben lieti di ospitarti e farti una visione delle nostre cosette. Grazie e buona giornata!